Dunque, vedo le vostre e rilancio di 10.000 franchi. Accetta la vostra puntata e rilancio di 200.000. Bene, allora vedo. Rocco! Prendi questi, ce ne andiamo. Vieni, veloce, fai i bagagli, dobbiamo uscire, proprietà privata. Certo, è casa vostra. L'avete persa giocando. No, 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 la carrozza no, non è più mia. Sbrigati, sbrigati, arrivano gli uffici all'intenziale. Avete perso tutti quei milioni. Sto, mi sono giocato anche i denti. Cosa, i denti? Ho dei bei denti, no? Avete perso tutta la vostra fortuna. Fino all'ultimo centesimo. Non mi è rimasto più niente. Ho le tasche completamente vuote. Sono un genio, vero? Sì, io credo di sì. Ricominciamo da zero, andiamo all'avventura. Cavalchiamo verso nuovi orizzonti, al galoppo. Ma non state dimenticando qualcosa? Non posseggo più nulla. Non ho niente da diment... Ah, già, che noia. Giacomo! Suoviti, leviamo le tende. In Francia mi ero inventato un'identità. Ora me ne serviva un'altra. Salpammo in direzione di nuove coste. Inghilterra, nel regno di Re Giorgio II.